grazie presidente ne userò molti meno visto il tenore del contenuto sia di ordini del giorno che di emendamenti ritenevo fosse superfluo intervenire invece penso che sia forse il caso di mettere qualche puntino sulle i probabilmente i proponenti hanno si direbbe a scuola poche idee eppure confuse perché vorrebbero con gli ordini del giorno ma anche con gli emendamenti che hanno proposto e che poi illustreranno in seguito attribuire al garante delle funzioni che non sono proprio di un garante dell'infanzia e dell'adolescenza cioè un controllo su come a chi vengono dati i fondi e tutta una serie di cose che ci sono altre altre sedi come la corte dei conti ci sono altre sedi come la procura per queste cose quello che deve fare un garante dell'infanzia e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una cosa completamente diversa poi vorrebbero che avressimo una persona di alto profilo ma che gli dessimo non più del garante del dei diritti delle persone con private dei diritti allora dovrebbero anche imparare un po di cosine del tipo se io metto in una delibera non superiore ad un importo fisso già previsto da un'altra delibera di giunta quando poi verrà nominato il successivo garante delle persone private delle libertà ovviamente andrebbe cambiata anche questa delibera e noi invece vogliamo fare una cosa fatta bene e che prosegua nel tempo e che non ci sia bisogno di mettere mano così come quando loro mettono dei criteri restrittivi su che cosa come devono essere i le le capacità di questa persona che deve aver operato nel nelle amministrazioni e nel privato avessero messo io forse ci si poteva fare un pensierino ma in questo modo non è un ampliare le qualità di questa persona essere molto più selettivi allora poi diventiamo noi maliziosi sul fatto che magari in futuro hanno già qualche idea precisa su chi indicare come figura visto che poi vorrebbero che questo garante inizia il suo lavoro con un sindaco e termina al terminale del sindaco quando una figura è di garanzia è di garanzia a prescindere da chi l'ha nominata quindi noi e per molti dei prossimi emendamenti logicamente li bocceremo grazie